Lo vedete dietro di me, grazie al professor Braga, il tutto sta bene, siete notati in una bellissima parete di arrampicata che oggi è stata protagonista del primo campionato italiano di sabili di arrampicata sportiva. Dopo il metodo del Canoa 3 che poi prevedeva tutt'anni e che ha portato a Casalecchio il primo campionato di sabili di Canoa Slalom, su questa primavera, ora abbiamo organizzato anche il campionato di sabili di arrampicata. Un altro passo verso l'integrazione, credo che sia un punto d'onore per la città, un punto d'onore per la scuola perché la scuola si è molto attivata per questo. Due parole, Presidente. Io devo ringraziare soprattutto chi ti ha aiutato a realizzare questa attività e la soddisfazione più grande della città quando ho visto un nostro ragazzino che non aveva l'uso delle gambe staccarsi dalla sedia e salire fino in cima con l'aiuto di un suo compagno. Allo spettacolo, grazie mio, grazie a tutti. Bene, grazie a tutti, Presidente Radia, alla scuola Sardegni, con l'impegnanza dello sport e adesso abbiamo il premio speciale Arbitro, l'abbiamo iniziato lo scorso